Carmine Padula, sei stato autore della colonna sonora della miniserie televisiva La Sposa, girata qui a Monte Sant'Angelo. Cosa ti ha ispirato? Beh, innanzitutto è stato un piacere, un onore, scrivere finalmente un po' di musica per il mio territorio. Mi ha ispirato la nostra terra, naturalmente, i nostri paesaggi, poi i monti, figurati, è un set a cielo aperto. La storia, naturalmente, la grande forza che ha avuto Serena, la regia, è stato un mix. La musica, ho cercato di creare una coniugazione di tutte le energie, dei paesaggi, dei sentimenti, di tutto quello che questa serie ha cercato di rappresentare. E credo che è stato il sentimento, l'emozione, ciò che ha poi decretato il successo di questa serie. E tua abitudine per comporre le musiche, le colonne sonore, andare sui set. Sei stato anche qui a Monte Sant'Angelo, sul Gargano, dove è stata girata appunto la sposa. Cosa hai incontrato, cosa ha influenzato le tue scelte musicali? Sì, mi ricordo proprio un anno e mezzo fa che eravamo in questa piazza, a Piazza dei Galgani, se c'erano i mulli, c'erano i contadini, sul set, è stato bellissimo. Devo dire che è stato bello perché per me è stato come se ci fosse una macchina del tempo. È come se io sono nato nel 2000 ma non ho vissuto gli anni 60. Ed è stato bello perché a un certo punto mi sono ritrovato negli anni 60 a Monte. E quindi diciamo, è stata una ricerca nella verità. Io ho cercato anche di sentire la musica popolare, che ancora oggi c'è una grande tradizione, però sempre mantenendo un'innovazione, perché siamo nel 2022 e dobbiamo mantenere una modernità. E quindi ho cercato di prendere degli elementi tipici, caratteristici del nostro territorio, come alcuni strumenti, alcuni suoni, ma li ho coniegati nella modernità della musica contemporanea per il cinema. Grazie.